Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi facciamo un get ready with me molto chiacchiericcio il tema di oggi del mio make up che avevo un po' anticipato su Instagram sono i trucchi delle case infatti come vedete ho un occhio dedicato ai corvo nero e un occhio dedicato ai serpe verde questo ovviamente è il risultato finale ma dopo vi farò vedere molto malamente cosa ho appena fatto infatti fra un po' ci sarà il flashback, questo video chiacchiericcio oggi non ho domande specifiche però volevo parlarvi di alcune cose che mi avete chiesto abbastanza di discutere ultimamente quindi parliamo un po' del momento, parliamo un po' delle varie novità che ci sono state anche in editoria e intanto io mi paciugo la faccia come sempre ovviamente io non sono una make up artist ma sono una beauty guru poraccia ovvero faccio cose a caso sulla mia faccia però insomma mi diverto e quindi penso che sia un contenuto anche leggero in modo che così io poi sono già pronta per il prossimo video e posso farvi il prossimo video senza fare danni e quindi insomma direi che il tema è quello ovviamente di fare i trucchi delle quattro case inizialmente volevo fare un trucco dedicato ad ogni casata ma il problema è che poi alla fine ho poco tempo per registrarli tutti e quattro poi mi sembravano davvero troppi quindi insomma ne facciamo due accorpiamo un occhio un occhio ad ogni casata e nel prossimo invece vedrete griffondoro e tasso rosso spero che l'idea vi piaccia insomma che sia carino e ripeto il get ready with me è il contenuto più leggero che c'è su questo canale quindi insomma spero che vi tenga compagnia direi che allora adesso mi sto per togliere gli occhiali quindi inizierà la fase dove io non vedo assolutamente nulla e iniziamo tornando all'inizio ok allora prima di passare al non vedrò assolutamente più nulla mi leggo un attimo i capelli perché ho la frangia lunghissima me la dovrei tagliare ma sono indecisa se tagliarmela o meno ho questo nuovo dramma di cui a voi non frega assolutamente niente quindi adesso direi che passiamo al non vedere più nulla e banalmente direi che faccio prima gli occhi rispetto alla base perché se no finisce male a mio parere e quindi adesso sto stendendo il primer dopo vado a metterci un po' di correttore perché insomma oggi dobbiamo fare risplendere i colori vi farò vedere un pochino tutti i vari passaggi ma cercando chiaramente di dedicarmi un pochino alle chiacchiere e infatti oggi ho un po' di updates da farvi e alcune cose che mi avete chiesto quindi direi che insomma partiamo innanzitutto molti di voi erano curiosi di sapere come va la quarantena perché ovviamente ora siamo tutti ancora immersi in questo meraviglioso momento e che dire follettine e follettini allora io devo dire che nonostante l'internet sia ancora pieno di persone che continuano a spingere positività, sentimenti positivi wow che figa la quarantena, facciamo mille cose, facciamo sport, mangiamo bla bla io in realtà raga sono del partito che si è veramente già rotto le balle sono molto molto poco non so concentrata perché sono stanca non sto leggendo molto e non faccio sport ma perché non lo faccio dalle superiori non prendete esempio da me ovviamente voi fate, lo fate bravi però non so come dire, tutto questo yeah facciamo cose non lo so io non la sto vivendo in questo modo e quindi insomma sta diventando un po' pesante soprattutto lato psicologico però sto cercando anche di vivermela molto tranquillamente passo per passo, tanto purtroppo non ci sono alternative quindi non saprei come fare altrimenti e quindi in ogni caso insomma vediamo passo passo come andrà avanti speriamo tutto finisca il prima possibile e tutto migliore il prima possibile è il mio augurio per questo periodo però insomma vediamo e detto ciò però insomma anche proprio in questo periodo vi dicevo che sto leggendo poco perché sono anche tendenzialmente presa abbastanza male perché comunque ho ricevuto una serie di bruttissime notizie che insomma non aiutano sicuramente l'umore non migliorano assolutamente la situazione e quindi insomma sono tendenzialmente presa abbastanza male detto ciò amen cioè insomma bisogna aspettare arrivare alla fine e sperare che insomma ci arriviamo con le ossa il più possibile cioè e penso che insomma tutti speriamo di arrivare alla fine di tutto questo con meno ossa rotte possibili allora parto intanto dall'occhio dedicato ai serpe verde e allora non ho tanti verdi e questo è il problema perché ne ho quattro di cui uno è shimmer e so che è un po' una ciofeca quindi insomma vediamo cosa salta fuori mentre del blu sono meno preoccupata perché ne ho diversi e tra l'altro funzionano anche abbastanza bene devo dire che verde comunque insomma sto cercando anche un po' le varie palette per riuscire a fare un trucco abbastanza a tema insomma seguendo le varie palette direi che per il serpe verde andremo sui toni del verde foresta il più possibile e quindi non del verde militare e del verde militare ho la palette di Kaleidos quindi la complicazione è quella mentre ovviamente Ravenclaw andiamo tra il blu e il grigio e anche una punta di marrone caldo perché c'è anche quella marrone caldo anche un po' terra bruciata quindi un po' chiaro mentre per il serpe verde ci teniamo sul tono del verde e sul tono dell'argento vediamo cosa salta fuori in più giusto perché insomma siamo qui a fare delle chiacchiere random perfetto questo verde di Jeffree Star fa un po' cagare però tanto a noi serve per fare giusto 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 un alone più chiaro su cui andremo a poggiare un verde scuro che da qualche parte troveremo speriamo che ce lo facciamo funzionare in realtà a me piace molto il verde ma lo uso molto poco perché è complesso e poi non so se mi stia molto bene però vabbè allora cosa sto leggendo invece questo periodo in realtà non sto leggendo molto come vi anticipavo prima però è vero anche che non è che sono proprio ferma vado molto a rilento però qualcosina sta saltando fuori ho finalmente iniziato The Ginevere Deception di Kirsten White che a me sta piacendo io sto andando a rilento e quindi insomma non sto leggendo con grande velocità quindi probabilmente me ne sentirete parlare con molta calma però in realtà a me sta piacendo davvero tanto sono quasi al 70% ho letto critiche veramente molto aspre su questo libro e devo dire che ho capito perché non sia piaciuto perché non è un classico libro e gli ha in tutti i suoi sensi ma le trovo molto 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 ingiuste per me è veramente un libro molto valido mi sta piacendo molto per ora quindi poi aspetto a esprimere un giudizio definitivo solo nel momento in cui ovviamente sarò arrivata alla fine ok? più o meno direi che con la sfumaturina ci siamo andiamo a recuperare un verde scuro l'unico verde scuro che ho è della palette di Storybook Cosmetics che è questo e sono già certa che non sia molto potente quindi vediamo vediamo tanto magari capiamo intanto cosa salta fuori poi dopo ci poniamo il problema iniziate a sperare che vada perché se no no beh invece ero troppo miscredente io probabilmente perché sta funzionando lo do nella piega dell'occhio e poi lo sfumo leggermente in fuori allora intanto poi cosa sto leggendo? ho iniziato Prince of Fall di Mark Lawrence che in realtà è un grimdark per adulti e io devo dire che non so perché l'ho iniziato fondamentalmente avevo voglia di leggere Mark Lawrence ultimamente perché non lo so e poi vabbè scrivendo la puntata sul Fantasy Talks mi è venuta davvero voglia di leggerlo non vi so dire perché e quindi niente quindi alla fine mi sono buttata mi sta piacendo abbastanza anche se ha tutta una serie di cose che a me non piacciono ma invece altre sono veramente molto 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 fighe quindi insomma sto cercando di centellinarmelo anche perché oggettivamente è un libro molto lungo molto complesso e io diciamo che ci sto cercando di leggere almeno un pochino al giorno ma leggendo poco sono veramente molto indietro sono tipo il 15% quindi prima di darvi anche lì un giudizio definitivo devo capire dove andremo cosa faremo e che ne sarà di noi beh dai alla fine pensavo peggio pensavo molto peggio quindi in qualche modo l'abbiamo portata a casa anche di qua prima di fare sotto che ovviamente lo faccio dopo che ho messo la base anche perché penso che dovrà pulirmi dopo il blu faccio questa parte di qua seguendo un po' lo stesso schema così riesco a fare una cosa più o meno simile ok? quindi ho usato due pennelli quindi anche di qua andiamo con un azzurrino sì ecco guardate la differenza tra il verde e l'azzurro di Jeffree Star cioè l'azzurro spacca l'azzurro è veramente potente e invece il verde ok e quindi niente intanto sto leggendo questo poi scrivendo i nuovi fantasy talks sto ripassando anche un po' diversi manuali sulla letteratura fantasy infatti sto riprendendo diverse parti del Cambridge Companion non ho fantasy literature e quindi anche quello insomma essendo un manuale richiede una certa attenzione richiede un certo tipo di studio insomma quindi sto cercando di fare tutto in maniera abbastanza complessa e seria perché ci tengo molto lo sapete molto bene ok forse anche qua ci dovremmo essere probabilmente qua devo allungare già un pelo e poi passiamo al blu questi devo dividermi i verdi dai blu perché sennò i miei pennelli si mischiano perché io sono ovviamente molto molto brava nel fare danni ok questo è il blu di Jeffree Star secondo me è un po' chiaro per quello che voglio fare io quindi forse lo mescolo con un'altra roba sempre di storybook allora quindi poi a parte questi due libri e poi il manuale che in realtà è più per studio che per diletto personale ho finito Notes and Crosses del quale prestissimo uscirà una recensione perché voglio parlarvene nel dettaglio è un libro molto popolare in Inghilterra e mi sto chiedendo perché non sia ancora uscito in Italia contando che vabbè io ci sono arrivata ora ma è uscito vent'anni fa pensate e ora ovviamente ha tutto un rebound di diciamo popolarità dovuto soprattutto al fatto che è uscita la serie e io spero davvero che esca in Italia perché noi come popolazione italiana ne abbiamo bisogno e quindi insomma questo è quanto e grandi pieni di lettura non ne sto facendo anche perché in realtà mi sta venendo voglia tipo di rileggere Neverwhere c'è il Nessun Dove di Neil Gaiman mi sta venendo voglia di rileggere cose poi dopo aver fatto la puntata sui vampiri cioè se vi piace Twilight che vi avevo linkato mi è venuta voglia di rileggere alcune cose che vi ho suggerito qua sta venendo fuori una roba dai non sono del tutto dispiaciuta non so se siano colori che a me stiano particolarmente bene però beh l'obiettivo è ovviamente quello in realtà di interpretare le case non tanto del fatto che devono stare bene a me però dai non sono così dispiaciuta qua c'è da sfumare abbastanza e quindi 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 sì la differenza principale e sostanziale è che il verde è shimmer e invece il blu è matt quindi ora ci vado a dare sopra un po' di shimmerino di storybook che è almeno uniforme un po' le due parti però dai pensavo davvero molto peggio quindi poi altre news visto che insomma un po' di voi mi avevano chiesto alcuni aggiornamenti su questa tematica cosa ne penso fondamentalmente cosa è successo allora è entrata in vigore la famigerata legge della quale abbiamo parlato che abbiamo discusso insieme quando c'è stata la proposta prima della discussione ovviamente è stata votata all'unanimità quindi non c'è molto da fare è entrata in vigore e quindi stiamo vivendo questo momento surreale dove siamo chiusi in casa ci dicono che dobbiamo sostenere i libri l'editoria leggere di più fare questo e fare quell'altro con la crisi economica che sta colpendo ovviamente tutti e libri che non possono essere scontati più del 5% voi ditemi cosa dovrei pensarne penso che boh sia il risultato di una legge fatta con i piedi che non tiene minimamente conto dei lettori dei desideri del lettore del consumatore finale né delle sue buone pratiche cioè dell'acquisto ovviamente in massa quando è scontato e ora che proprio i più colpiti sono le librerie viene fuori quanto questa legge sia fatta veramente in maniera molto poco lungimirante tra l'altro mi fa sorridere che gli unici che ora più o meno tranne alcune librerie che si sono attivate per la distribuzione a casa diciamo che tutti stanno cercando di comprare libri sui distributori online e dai grandi gruppi online e ovviamente si trovano a poterne comprare il meno possibile perché ovviamente il numero di libri che si possono permettere è molto inferiore io continuo a sostenere che questa legge sia imbarazzante che il fatto e poi il fatto che le case editrici abbiano contribuito è gravissimo però tanto alla fine siamo noi che sbagliamo siamo noi che non capiamo siamo noi che dobbiamo avere un'esperienza diversa della concezione del libro questo è quello che è stato detto dall'associazione librai e in generale dalle librerie italiane cioè avere un altro tipo di concezione del libro io penso che già pensare che l'utente debba trasformare la propria esperienza invece che cercare di adattarsi e di competere per soddisfare in qualche modo i desideri del pubblico sia il motivo per cui la gente smette di frequentare le librerie o comunque compra online oltre che per il prezzo perché se questo è quello che ti viene detto io non so ho grandi dubbi o veramente grandi dubbi su come si ragioni in Italia da questo punto di vista e poi sapete che io sono molto transhant perché per me è una questione soprattutto di visione allora ho una mezza idea di fare una cut crease ora ci provo perché secondo me starebbe bene qua in mezzo adesso facciamo questo tentativo cercando di non fare troppi danni ok più o meno dovrei esserci ok avendo poi la palpebra mobile molto piccola è un po' inutile che faccia la cut crease però faremo finta che sia una cosa utile allora intanto vado a prendere dalla game of thrones palette il verde che secondo me non è granché però è più chiaro rispetto a quello di storybooks quindi provo a fare a usare questo come collante tra una parte e l'altra così poi dopo vado a cercare di illuminare non so poi con cosa ah con l'argento devo farlo scusate mi sono appena ricordata ma in realtà sta andando più di quello che era il mio tentativo iniziale di usarlo bene e invece faccio il collante con il blu mescolando un po' di blu e un po' di azzurro della jeffrey mi rimane da fare solo l'interno uno lo farò argento e l'altro invece lo farò con un colore che è un argento un po' tortora quindi insomma vabbè intanto vi racconto cose di cui a voi non frega niente magari e argento posso usare sia quello della game of thrones che quello della mulac quindi uso quello di mulac perché sono abbastanza certa che sia l'argento più potente che esista e infatti vi dicevo cosa devo pensare di questa legge per me è una legge che in questo momento non ci voleva non speravamo di averla e trovo davvero imbarazzante il fatto che anche le giustificazioni siano arrampicatissime sugli specchi però ragazzi è stata votata è stata votata all'unanimità io ho cercato anche di parlare con alcune persone che l'hanno redatta e le risposte sono imbarazzanti anche perché non si capisce dove sarebbe il beneficio dell'utente le librerie invece ti dicono che bisogna avere una nuova esperienza con la lettura no? cioè non funziona così non è che perché devo fare una roba che ha un favore a te io cambio le mie abitudini cioè no e anche perché già si legge poco io ripeto che invece che leggere di più leggeremo tutti di meno non è che tutti cambieremo abitudine e quindi boh io sono molto molto in imbarazzo per loro altra cosa della quale volevo anche parlarvi è la questione delle uscite rimandate perché ce ne sono davvero parecchie e le uscite rimandate ahimè secondo me sono un pessimo segnale un po' perché la mia idea riguarda queste tematiche qui è che siano anche il frutto di una incapacità di riorganizzarsi da un lato dall'altro capisco anche il fatto che insomma si stampino libri e gli unici distributori sono i grandi gruppi o chi si può permettere di usare la distribuzione online e capisco che per chi campa moltissimo di sostegno alle librerie o comunque di rete commerciale e rete vendita legata alle librerie questa situazione sia un casino ecco non è che non le vedo io queste cose sono semplicemente molto più transient quando si tratta di adottare metodi un po' più efficaci allo stesso tempo rimandare le uscite capisco perché siano state rimandate ma questo è un momento dove invece la lettura potrebbe essere effettivamente una grossa soluzione per molti anche perché avere così tante uscite rimandate non giova nessuno ovviamente poi nel senso questi sono pareri personali io non conosco tutte le dinamiche all'interno delle case editrici che portano effettivamente a questi rimandi sarei curioso di capire nel dettaglio cosa sta succedendo però il mio parere è tendenzialmente negativo perché non è il momento di rimandare a mio parere non è il momento di rimandare tutto tantissimo quanto meno poi dopo alcune cose le capisco anche per diciamo dare anche una certa dignità alle varie uscite perché facendolo uscire sembra un po' farle uscire in sordina quindi capisco un pochino questo punto di vista anche se non lo condivido del tutto perché penso che insomma sia più giusto dare invece molte possibilità di esplorazione di questi titoli anche in un formato digitale che non capisco perché sia il male secondo moltissimi però addirittura non ci sono tanti libri in ebook in questo periodo e perché perché non fate gli ebook soprattutto ad un prezzo accessibile perché un ebook a 18 euro un ebook a 14 euro un ebook a 10 euro cioè è un file raga non è che ha dei costi fisici cioè è un file che viene condiviso boh non lo so io sono super contraria a questo metodo di cioè non capisco però sono io sono io il problema sono solo io boh cioè qua dovrei mettere del marrone in realtà perché sarebbe corretto e poi quindi però bisogna compensare con un po' di verde perché qua sennò abbiamo due forme diverse allora quindi per parlare di uscite rimandate non lo so ce n'è tante ovviamente quella che mi sta più a cuore è la nona casa che mi dispiace veramente tanto è stata rimandata veramente tanto in là e è un peccato perché poteva essere perfetta per questo periodo e invece niente e invece niente e questa cosa mi dispiace moltissimo perché so che tanti di voi l'attendevano ci speravano non vedevano l'ora di poter finalmente leggere questo libro anche perché capisco che qualcuno di cui ovviamente state vedendo il video vi ha scassato parecchio le balle e avevate anche pensato che questo potesse essere il periodo dove effettivamente potevate dedicarvici non lo so è un gran peccato è veramente un gran peccato e non so sono molto dispiaciuta sono dispiaciuta insieme a voi uff non è giusto ci tenevo tanto che uscisse quindi insomma da un lato capisco anche il fatto che debba avere una sua certa dignità questa uscita perché è un'uscita secondo me abbastanza sentita da tante persone quanto meno e non averla è un peccato mi sono scordata la cosa per le sopracciglia quindi quello ce ne teniamo per la fine allora quindi facciamo un po' di contouring a questa base vediamo cosa salta fuori non ho da fare contour freddo no si in realtà ce l'ho ma l'ho lasciato di là e non ho voglia di andarlo a prendere per l'occasione ho anche lavato tutti i pennelli allora quindi insomma mi dispiace moltissimo perché ci sono tante uscite che erano molto 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 attese non solo la nona casa come falce la città di ottone insomma il secondo della gemisin che so che tanti stavano attendendo io devo ancora leggere il primo quindi insomma è tutto un casino ed è tutto un gran peccato dobbiamo solo avere grandissima pazienza perché si può fare in altro modo e quindi boh non so sono cioè è un periodo proprio brutto sotto tanti punti di vista anche dal punto di vista editoriale che so che nella scala delle cose è la cosa meno rilevante possibile per tante persone che so che per tante persone insomma pensare che rimandare delle uscite è una cosa molto poco rilevante soprattutto in un momento dove siamo davvero tutti ok ho esagerato era un po' forte quindi ora tento di sfumarlo però allo stesso tempo cioè è l'ennesimo dispiacere è vero che non è una cosa nella scala delle gravità di questo periodo dove davvero ci sono cose molto pesanti da gestire molto difficoltose eccetera cioè è semplicemente un dispiacere in più che chiaramente ci colpisce ci era trista un po' come persone e non lo so non so come dire c'è proprio una cosa che mi dispiace ma mi dispiace perché so che tanti la attendevano potrei fare una roba un po' pazzerella tipo usare i glitter e allora faccio le sopracciglia poi dopo valutiamo anche l'opzione glitter perché insomma sapete che qua la sobrietà non regna di casa quando si tratta di make up quindi insomma capisco che sia l'ennesimo dispiacere ma ragazzi arriveranno cioè sono libri che arriveranno prima o poi e quindi insomma detto ciò invece ho letto un po' la polemichetta cioè non so se avete se mi seguite su instagram sapete che io sono in mega polemichetta in questo periodo perché l'associazione editori italiani si sta lamentando che sono in ginocchio piegati dalla crisi di questo momento che hanno avuto un calo del 75% delle vendite non so ragazzi io non riesco a provare pietà per loro perché nonostante ci siano tante persone molto molto in gamba nell'editoria che ho conosciuto con cui collaboro che stimo eccetera l'idea di provare pena per persone che stanno usando questa scusa perché effettivamente il coronavirus è l'ennesima scusa per non cambiare non adattarsi non riuscire a vedere che ci sono cose che devono cambiare dentro l'editoria che è ferma ok questa è la punizione degli editori mi sembra una follia cioè a me sembra solo una scusa perché dire che il coronavirus è la scusa per il calo drastico il problema che le librerie sono chiuse il problema è che ci sono libri che non hanno ebook ci sono pochi pochi strumenti pochi meccanismi messi in atto in questo momento e invece le aziende che si stanno riadattando ce la stanno facendo eccetera è perché stanno reagendo e non reagire non porterà cose positive ma è ovvio poi dopo è ovvio che ci vogliono dei sostegni come tutti i settori sono colpiti eccetera eccetera non lo metto in dubbio ma dare tutta la colpa a questo periodo quando in realtà la colpa è dovuta principalmente a delle incapacità di gestione a me fa veramente arrabbiare e mi sento presa in giro perché diciamo che il momento la crisi quello che stiamo vivendo ora sarà un'ennesima scusa per non cambiare io ho un po' questa visione molto cinica ma non riesco a non averla non riesco a pensare che sia l'unico problema in questo momento quando in realtà c'è un immobilismo da parte dell'editoria nel cambiamento nella ristrutturazione che boh non lo so poi magari ne parleremo presto anzi spero effettivamente di parlarne prestissimo perché penso che insomma sia un argomento che tutti sentiamo abbastanza almeno sul mio canale è sempre stato molto molto sentito anche da voi quindi insomma sono curiosa anche di sapere cosa ne pensate perché su Instagram c'è stata una bella reazione ieri tutti molto scatenati non riesco a fare questa sopracciglia forse ce l'ho fatta ok allora visto che non era già abbastanza baraccone del circo direi che aggiungiamo i glitter allora cosa bella dei glitter io ho solo questi nel senso che li avevo presi da NYX per Natale due anni fa mi sa credo probabilmente è che effettivamente sono verde e blu quindi non li avremo per grifondoro e tasso rosso però invece per serpe verde e soprattutto per i miei cari amati e ovviamente appartenenti alla mia casata ovvero i corvo nero ce li abbiamo metto la colla perché questi se no arrivano ovunque tranne che dove devono arrivare e dopo andiamo a metterli non so raga mi è venuta st'idea che magari è un'idea becera e ci sta malissimo però alla fine tanto io non sono una make up artist non ho pretese di sembrare capace di fare cose che non sono capace a fare allora provo a prelevarli con il pennello ma mi sa che faccio prima fare con il dito non lo so non mi dispiace che dite va bene detto ciò quindi insomma volevo darvi un po' di aggiornamenti perché me li avete chiesti perché magari su instagram li do continuamente ma non tutti siete su instagram e quindi questi sono un po' i miei pensieri vaghi ed eventuali dell'ultimo periodo io spero che insomma voi stiate bene quantomeno teniate botta però capirei anche chi di voi è un po' più in difficoltà perché è una difficoltà che penso sia molto comprensibile soprattutto perché insomma chi non stava già molto bene prima in questo periodo accuserà chi soffre come me di disturbi legati alla salute mentale sicuramente non starà vivendo un periodo molto semplice penso sia più che comprensibile io però vi devo dire una cosa che io spero vivamente che questo periodo insegna a tante persone è una speranza vana ovviamente non mi aspetto del grande ottimismo legato a questo tema però diciamo che spero che tante persone che in questo momento stanno subendo la crisi un momento di grande difficoltà soprattutto psicologica legata al momento alla reclusione eccetera che stanno vivendo forte ansia eccetera siano dopo la crisi un pelo più comprensivi di chi come me soffre di ansia di depressione e di quant'altro perché penso che abbia insegnato a molti che anche agli insospettabili che ci si può trovare in queste situazioni o mi piace un sacco con il glitter il verde è bellissimo quindi devo un po' esagerare anche con il blu non so mi sto divertendo a fare questa cosa qui e mentre stavo facendo un discorso serissimo peraltro però davvero ragazzi io spero veramente tanto che tante persone che magari non hanno mai cercato di capire o non si sono mai trovati perché a volte persone se non vivono le cose in prima persona sminuiscono le sofferenze e i dolori degli altri e spero che questo un pochino abbia insegnato tante persone che può capitare a chiunque un momento di difficoltà e che qualcuno magari se lo porterà dietro a lungo e io confido molto che ci sia un po' più di empatia e di comprensione quando una persona si trova o manifesta una difficoltà è una speranza vana sì me ne rendo conto ma allo stesso tempo un pochino ci voglio sperare quindi ditemi anche voi come la state vivendo se qualcuno di voi magari sta vedendo un po' più di persone che si rendono un po' più comprensive quantomeno ok metto l'eyeliner perché se no non riesco a farlo davanti a voi e torno ok ce l'ho fatta ho fatto anche questo ho messo anche il mascara sopra che per me è un grande sbatto perché non ho mai sbatto di metterlo e boh non lo so che dite cosa dite devo mettermi un rossetto in tutto ciò che rossetto metti su due colori del genere che rossetto metto perché io sia il blu che il verde ma direi che è difficile fare un rossetto blu e verde cioè magari si fa ma io non ne sono in grado quindi metterò un colore freddo proviamo dai ho messo un colore freddo che più o meno potrebbe starci con entrambi non lo so magari non ci sta per nulla non lo so cioè mi era venuta questa idea di fare comunque i trucchi delle case non tanto perché mi ritengo capace però perché lo trovavo divertente insomma per questo periodo ho fatto blu e verde prossimo giro ovviamente facciamo giallo e rosso per tasso rosso e per grifondoro insomma spero che questa idea vi sia piaciuta insomma ho parlato di un sacco di cose anche molto random in questo video quindi il prossimo ve lo giuro che faccio un Q&A vi metto il box delle domande su Instagram e invece vi scrivo nella community qua di YouTube se volete farmi qualche domanda random su cose random generali insomma curiosità che avete e niente ragazzi io spero che insomma questo video vi abbia intrattenuto vi sia piaciuto insomma che abbiamo discusso un po' di tanti temi un po' a caso random insomma fatemi sapere come state come la state vivendo e la vostra opinione su questo cioè su queste novità un pochino che uscite stavate attendendo e che magari ora non sono ancora uscite quindi insomma siete un po' dispiaciuti magari e quali state ovviamente puntando che arriveranno a breve io direi che per oggi siamo arrivati in fondo spero di avervi tenuto compagnia anche oggi e direi che per tutto ci sentiamo giù nei commenti così mi dite un po' le vostre opinioni e per tutto il resto ci vediamo al prossimo video ciao